Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno un abimento in più, biondi capelli e rosa di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, nella culla ti ha messo un fioretto, o lei ti dà un fioretto, o lei ti, lei ti, lei ti Oscar ti hanno testa quando passi tu. Eccoci qua! La musica piano piano si rallenta e io vi dico due cose importanti. Intanto a tutti i fans di Cagliari, della Sardegna, di tutta Italia e del mondo, saremo il 10 dicembre, 10 dicembre vicino a Natale, a Cagliari, dove? Al T-Hotel, al T-Hotel di Cagliari, un bellissimo posto, nella Sala Congressi. E chi mi accompagnerà? Alziamo un pochino la musica? Mi accompagnerà i supereroi, questo gruppo fantastico, una cartoon cover band, bellissimo. Abbiamo già provato, siamo contenti. Tutti i fan di Cagliari non delude mai, ho lei di lei di lei di Oscar, anche nella mischia, vincere tu sai. Canteremo le canzoni dei cartoni, le più importanti, Fiorellino, Lo specchio magico, L'uomo tigre, Sasuke, e perché no, Gigi la trottola, chissà quante belle canzoni che ci toccherà il cuore. Qualcuno mi chiede, ma i biglietti? Dal 6 novembre venderemo i biglietti, anzi, andrete nel sito www.supereroi.net Ti invidiano perché a Lady 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 Oscar, tutti quanti insieme, a Cagliari, al T-Hotel. Vi aspetto ragazzi, volume, dai, dai, sarà bellissimo, ciao.